Sì, dammi tre punti, non chiedermi niente perché tu sei un Abram per me, dammi tre punti, non chiedermi niente perché tu sei un Abram per me Ciao ragazzi e bentornati in questo video qui a Giapiaz e oggi siamo di nuovo qui ragazzi, siamo appunto qui nel Giapiaz, commento nel commentare il post partita della mia Roma che è lo stadio olimpico La Roma batte 1-0 e il Torino vittoria ragazzi a Portomuso come dice Allegri, queste sono le classiche vittorie alla Giuseppe Morigno ragazzi Sono partite noiosi perché oggi è stata una partita noiosa però alla fine i tre punti a casa ce li portiamo e questa è l'unica cosa che conta Mi dispiace per l'infortunio dei Pellegrini, praticamente al 14esimo si è fatto male Pellegrini, è uscito molto durante, mi sa che stai ostirato o addirittura strappato Spero che non sia uno strappo, spero che non sia una cosa troppo pesante però ragazzi l'ho visto veramente usci male, non gli faceva camminare Ho visto proprio male, cioè zoppicava praticamente Spero non sia niente troppo grave Gol, ennesimo gol di Abram che segna ancora Abram Prima di tutto ciò ragazzi iscrivetevi mi raccomando al canale, attivate la campagna di notifiche Dopo questo video andate a vedere la live reaction, ve la lascio a fine video e venitemi a seguire sui social, mi raccomando il link è qua sotto in descrizione E ovviamente venite a vedere anche il live, dopo ci sarà Napoli-Lazio, la guarderemo insieme in live, vi aspetto E ovviamente andate a seguire anche la pagina Venano Manisto con il quale sto collaborando, passate il loro sito, trovate il link qua sotto in descrizione Vendono maglie da calcio a tema Roma, quindi mi raccomando approfittate adesso che c'è il break friday Con il mio codice sconto già avrete un ulteriore sconto del 15%, approfittatene, mi raccomando Parlando della partita, c'è da dire, non c'è da analizzare molto perché comunque sono due squadre che hanno tirato tanto ma alla fine azioni non ci sono state tante parate da parte dei portieri Mi viene in mente, ovviamente a Roma ha giocato benissimo il primo tempo, meritava il vantaggio secondo me già nel primo tempo Gol di Abram è arrivato al 32esimo, c'è l'infortunio di Pellegrini al 14esimo, c'è stato se non sbaglio un'azione con Zagnolo Una con Abram che è uscita di poco fuori, un'altra con Zagnolo che è uscito sempre il tiro fuori E poi c'è stato il gol di Abram al 32esimo, bella l'azione, bellissima, apre Zagnolo Passaggio per Mkhitaryan, Mkhitaryan che la ripassa in mezzo verso Zagnolo, Zagnolo che apre le gambe e fa il velo Bella l'azione, la palla che finisce sui piedi di Abram e Abram che fa un gran gol Ma secondo me qui il gol, cioè la giocare è stata di Zagnolo che ha fatto partire l'azione e poi ha fatto il velo decisivo per il gol Veramente tanta roba E poi ragazzi c'è stato un calcio di rigore, ci sta, ci poteva stare un calcio di rigore nel primo tempo Che sono stati sei minuti fermi davanti l'arbitro così a vedere se c'era rigore o no Ma era fuori gioco, ragazzi ma sapete quanto? De mezzo millimetro di fuori gioco Quindi non viene dato il calcio di rigore, già si era preparato Abram Poi ragazzi, di nuovo, altra occasione, grossa occasione per la Roma sempre con Abram Sul calcio d'angolo, Carles Perez che la butta in mezzo Abram che si stacca colpo di testa E c'è Vania Melinkovic che compie il miracolo, vola tipo due metri A parte due metri già lui vola un altro uomo e vola tre metri Tre metri sopra il cielo e la para E poi ragazzi il primo tempo che la Roma attacca tanto Nel secondo tempo la Roma invece che si chiude In realtà il Torino ha fatto più tiri in porta Perché il Torino ha fatto 17 tiri, tre in porta La Roma ne ha fatti 10-2 in porta Nel secondo tempo meglio il Torino, tra l'altro 69% possesso palla Torino 31% palla possesso della Roma Secondo me il Torino forse meritava un po' il pareggio Perché comunque alla fine Juric ce l'ha preparata bene Il Torino è una squadra che secondo me quest'anno si potrà togliere Grandi soddisfazioni a 10 punti in più rispetto allo scorso anno Merita sicuramente di stare nella parte sinistra della classifica Quindi di lottarsela per la conference Secondo me è una squadra che ce la può fare insieme alla Fiorentina E insieme al Verona sono le squadre secondo me più in forma di questo campionato E possono dare diversi pericoli anche alle altre big Quindi diciamo è una squadra difficile da fronte al Torino Ha diversi giocatori interessanti, si è infortunato pure Belotti Fatemi sapere la vostra vittoria Ci sta, alla fine contano solo i tre punti Sono contento perché adesso stiamo in classifica Da legge al volo la classifica Prima il Napoli a 32 punti deve ancora giocare Secondo il Milan a 32 quindi abbiamo recuperato tre punti al Milan E abbiamo preso anche tre punti alla Juventus importantissimi Milan a 32 Inter a 31 che ha vinto L'Atalanta a 28 che ha vinto Quindi Atalanta a quarta, Roma a quinta 25 punti a meno 3 dall'Atalanta E a meno... Diciamo a meno... A meno 7 dal primo posto ragazzi Meno 7 dal primo posto Fatemi sapere la vostra Iscrivetevi, attivate la campanella Non mi piace Andate a vedere la live reaction Vi aspetto in live per Napoli-Lazio Un bacione Sempre e comunque Forza Roma Forza Roma Dai Abram Dai Continuo così Ciao ragazzi